Basta! Un euro! Da McDonald's nasce uno per uno. Dieci prodotti a solo un euro. Con tante novità come insalata, sundae ciocotrisse e chicken burger e bbq. Un euro vale di più. Tu e il me da un chicken burger? Un chicken burger, no, no. L'Unione Sportiva Catanzaro 1929 nella mattinata di oggi ha reso noti i prezzi e la data di partenza della campagna abbonamenti per la stagione 2012-2013. Già dal 27 luglio prossimo i tifosi giallorossi potranno sottoscrivere il proprio abbonamento con diritto di prelazione per gli abbonati dello scorso campionato fino al 4 agosto. I prezzi delle tessere varieranno a seconda del settore prescelto da un minimo di 155 euro per il settore Curva Massimo Capraro fino ad un massimo di 550 per il settore Tribuna VIP. Previsti inoltre dei pacchetti di abbonamenti ridotti per le famiglie con agevolazione sui prezzi e finanziamenti. Per chi acquisterà l'abbonamento entro il 13 agosto in omaggio verrà consegnata inoltre la nuova Sharpe ufficiale dell'US Catanzaro. Per quanto riguarda i singoli biglietti, ampio il ventaglio dei prezzi proposti a partire dai 14 euro per la Curva Massimo Capraro passando per i 22 euro della Tribuna Laterale Est per i 27 della Tribuna Laterale Ovest i 32 della Tribuna Centrale e i 50 della Tribuna VIP. Altra novità, la fascia di età per i bambini under 12. I nati dopo il 2000 potranno acquisire l'abbonamento al costo fisso di 70 euro per tutti i settori. Coinvolgente e suggestiva, la grafica utilizzata al sudalizio giallorosso per quanto riguarda il lancio della campagna abbonamenti. A partire dallo slogan, riprendiamo la storia. Sullo sfondo, le immagini di due personaggi entrati di ritto nella storia dell'US. Angelo Mammi e Simone Masini vale a dire il passato che si confonde con il presente il bianco e nero con i colori. Il Catanzaro punta a far avvicinare sempre di più i tifosi alla propria squadra del cuore abbonarsi per gratificare l'operato della società questo il messaggio lanciato di recente dal presidente Giuseppe Cosentino.